Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di Ghost of Tsushima vi mostrerò la posizione esatta del kit per la spada di Sly Cooper, tratto appunto dal gioco Sly Cooper. Il kit si trova nell'ultima parte del gioco, praticamente in alto, qui ve lo mostro bene zoomato, sulla destra, presso il villaggio di Wai, vedete? E dovete praticamente arrivarci a piedi, non potete raggiungerlo con il cavallo perché vedete c'è anche una corda tesa che dovete utilizzare per raggiungere appunto il kit per la spada di Sly Cooper. Lo prendete e il gioco è fatto. Adesso potete avere il kit per la spada di Sly Cooper, quindi andate su, scusate no completo, andate su acciaio di Sakai, scegliete la katana e scegliete poi il kit di Sly Cooper Tanuki Scaltro, vedete? Quindi in questo modo potete omaggiare Sly Cooper in Ghost of Tsushima.